E' un'occasione più unica che rara per poter sentire gente che parla di evoluzione, per sentire parlare di scienza e per appassionare, noi speriamo, il maggior numero di studenti, di giovani e di meno giovani che sono interessati al museo oppure su Scienza in Rete che fantasticamente come tutti gli anni ci segue e ci permette una diretta live streaming.